Musica Bezzini visita gli ospedali della valle ma rimane l'incognita medico 118 l'assessore Reggio Mara La Salute ha incontrato gli operatori degli ospedali di Barga e Castelnuovo e i sindaci ma rimangono nodi da sciogliere sulla riorganizzazione della sanità nelle zone marginali Giro di vite sugli affitti turistici, la Versilia nel mirino della finanza i militari del gruppo di Viareggio hanno scoperto un'evasione per oltre 145 mila euro nei comuni di Viareggio, Forte dei Marmi e Pietra Santa RC Auto aumenti sciocca a Lucca e rincari più alti l'osservatorio facile.it evidenza incrementi a due cifre nell'ultimo anno Reilo Faso a Curva Oves ricostruiamo la lucchese l'amministratore delegato ha parlato di ricapitalizzazioni, stadio, settore giovanile, squadra femminile e programmi per il prossimo campionato di Serie C Buonasera e bentrovati con l'informazione del nostro giornale l'edizione dedicata a Lucca Piana e Garfagnana che apriamo avrete sentito dei nostri titoli dall'incontro dell'assessore regionale Bezzini l'assessore regionale alla salute negli ospedali della Valle del Serchio un incontro tanto atteso, tanti nodi cruciali ancora da sciogliere partiamo da qui con il servizio di Luca Galeotti L'assessore al diritto alla salute della regione toscana Simone Bezzini è giunto in Valle del Serchio per incontrare gli operatori dell'azienda Usle Toscana Nord-Ovest che lavorano negli ospedali di Barga e Castelnuovo la visita ha preso inizio all'ospedale di Barga la presenza anche dell'assessore regionale Stefano Baccelli ed il consigliere regionale Mario Puppa, principale promotore di questa visita Sono molto contento di questo incontro e ringrazio l'assessore regionale Bezzini per questa opportunità perché in questo modo attraverso un confronto diretto con gli operatori con i medici e soprattutto con i nostri sindaci potrà prendere atto di quelle che sono le problematiche soprattutto gli elementi di rilancio della sanità della Valle del Serchio Bezzini ha incontrato gli operatori del San Francesco alla presenza anche di Maria Letizia Casani la direttrice generale dell'azienda Usle Toscana Nord-Ovest Dopo Barga l'incontro si è spostato all'ospedale Santa Croce di Castelnuovo e alla fine l'assessore si è confrontato anche con i sindaci del territorio della Valle tra i temi pressanti e di particolare preoccupazione per la Garfagnana la riorganizzazione dell'emergenza urgenza con la problematica relativa alla necessità di garantire la figura del medico nel sistema 118 per zone marginali come l'alta Garfagnana Dobbiamo tener conto delle peculiarità del territorio dobbiamo tener conto delle preoccupazioni delle persone quindi ho confermato e confermo che non ci saranno forzature non ci saranno accelerazioni improvvise c'è però la necessità di ragionare sull'uso ottimale della risorsa professionale noi non stiamo ragionando di tagli io questo lo vorrei sottolineare stiamo ragionando di nuovi modelli organizzativi c'è un confronto in corso con tutte le realtà istituzionali con i sindaci, con le realtà associative per cercare giusti punti di sintesi ripeto, nell'interesse della tutela della salute dei cittadini della Toscana e di questo territorio Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca con l'inchiesta della Guardia di Finanza di Lucca per quanto riguarda gli affitti turistici i militari hanno scoperto un'evolione per 145 mila euro tutti i dettagli nel servizio di Luigi Casentini Con l'avvicinarsi del periodo estivo si sono intensificati i controlli delle fiamme gialle per il contrasto al fenomeno degli affitti in nero grazie all'analisi incrociata delle banche dati i finanziari del gruppo di Viareggio sono riusciti a individuare 8 immobili dislocati nei territori di Viareggio, Forte de Marmi e Pietrasanta posti sul mercato degli affitti brevi senza alcuna dichiarazione dei redditi percepiti i proprietari si affidavano per lo più al passaparola senza avvalersi di alcuna piattaforma web eludendo così qualsiasi forma di controllo ordinario ed erano attivi ormai da circa tre anni complessivamente l'operazione ha portato alla constatazione di redditi non dichiarati pari a oltre 145 mila euro che sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate per il successivo recupero alle casse dell'erario è questa una delle prime operazioni nell'ambito delle locazioni immobiliari irregolari in vista dell'estate ma questo tipo di attività verrà ulteriormente approfondita con l'avvicinarsi della stagione prendendo in esame anche i territori di Lucca e della Garfagnana Andiamo in Valle del Serchio controlli straordinari dei carabinieri e i risultati sono di nove patenti ritirate di cui tre per guida in stato di ebrezza e sei per esecuzione di manovre pericolose alla guida di veicoli ma anche tre sequestri di stupefacenti a carico di cinque persone che in tempi diversi sono state trovate in possesso di hashish, cocaina e desi E adesso andiamo sulla piana di Lucca e per la precisione ad Alto Pascio arrivano rinforzi per la Polizia Municipale e l'ultimo concorso che portava ad assumere nuovi agenti risale a qualche decennio fa Dopo oltre vent'anni dall'ultimo concorso il Comune di Alto Pascio ha pubblicato un bando per assumere due nuovi agenti del Corpo di Polizia Municipale Il concorso resterà aperto per un mese i candidati potranno presentare domanda fino alle 13 di lunedì 19 giugno Tutte le stanze pervenute entro il termine indicato saranno preliminarmente esaminate dall'ufficio personale i candidati ammessi dovranno poi sostenere tre prove d'esame La figura professionale ricercata si occuperà di prevenzione accertamento e repressione delle infrazioni al codice della strada rispetto in merito a regolamenti, ordinanze e attività inerenti la Polizia Amministrativa istruzione di pratiche e predisposizione di relazioni per l'autorità giudiziaria e amministrativa e tutto ciò che compete la Polizia Locale dovranno oltre svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria stradale e ausiliare di pubblica sicurezza servizi d'ordine, di scorta e di rappresentanza La graduatoria del concorso durerà tre anni e consentirà all'amministrazione comunale di assumere subito due agenti a tempo pieno e indeterminato ma anche di avere una lista di persone donne a cui attingere in futuro Perché facciamo un concorso? Perché c'è bisogno di agenti le persone ci chiedono maggior controllo del territorio questo è emerso anche dagli incontri che facciamo porta a porta quindi l'impegno che abbiamo preso in campagna elettorale nel programma di fare un concorso oggi diciamo gli diamo concretezza quindi l'obiettivo è quello di aumentare il numero degli agenti di Polizia Municipale per dare un supporto a quelli che già ci sono all'interno del corpo di Polizia Municipale con l'obiettivo anche di avere nella graduatoria la possibilità di assumerne ulteriori dopo i due che assumeremo subito dopo il concorso l'obiettivo è darsi ossigeno avere la possibilità di poter avere persone che direttamente col nostro concorso possono entrare all'interno del comune per lavorare sul territorio con più sicurezza, più controllo e più prevenzione La Croce Verde di Lucca taglia un traguardo importante e lancia un'iniziativa un evento aperto a tutta la cenanza in programma in piazza Napoleone in centro storico a Lucca La Croce Verde di Lucca inaugura tre nuovi automezzi per festeggiare i 130 anni dalla sua fondazione si tratta di un'ambulanza per il servizio di emergenza territoriale di un doblò e un pulmino per il trasporto dei disabili domenica 21 maggio alle 10.30 in piazza Napoleone a Lucca verranno presentati i tre veicoli con una festa aperta alla cittadinanza questi mezzi andranno ad integrare il parco auto e strumentazioni in dotazione alle donne e agli uomini dell'associazione a questi si aggiunge anche un monitor multiparametrico che consente un'analisi dei parametri vitali del paziente sincrona e complessiva acquistato grazie al contributo di Giovanni Lorè e della nuora Laura in ricordo di Marco Lorè prematuramente scomparso è una giornata estremamente importante storica seggiamo i 130 anni e lo facciamo secondo il nostro modo di vedere nel modo migliore e quindi dotando la cittadinanza di altri mezzi efficienti al servizio dei cittadini è chiaro che la nostra associazione ha bisogno dei mezzi ma ha bisogno anche dei volontari per portare il servizio per compiere i vari servizi e quindi io vi aspetto qui a tutte le donne e gli uomini che hanno un po' di tempo e voglia di darci una mano e più che altro dare una mano alla nostra comunità Aumentano le tariffe per le assicurazioni delle auto e a Lucca si registrano i rincari più alti in tutta la Toscana Ancora brutte notizie per gli automobilisti lucchesi il rincaro dell'RC Auto iniziato quasi un anno e mezzo fa stenta a rallentare tanto è vero che in appena 12 mesi il premio medio pagato in provincia di Lucca per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 24,1% arrivando ad aprile 2023 a 544 euro di premio medio come evidenziato dall'osservatorio di Facile.it quello di Lucca è l'incremento più alto registrato nella regione seppur in misura differente l'aumento delle tariffe medie rilevato nell'ultimo anno riguarda tutte le province toscane assegnare l'incremento più consistente quindi Lucca seguita da Arezzo e Pistoia continuando a scorrere la classifica toscana troviamo Firenze Siena a pari merito Prato e Grosseto con un incremento nell'ordine del 20% e Massa Carrara con un più 19,9% chiudono la gradatoria Livorno e Pisa con un aumento del 13,2% in valore assoluto sempre ad aprile Prato è risultata essere la provincia più cara della Toscana Siena la più economica Due giorni dedicati all'alta moda e all'artigianato in città in centro storico a Lucca l'amministrazione comunale lancia un nuovo evento si tratta del Lucca Fashion Weekend ci spiega tutto Virginia Torriani Un fine settimana dedicato alla moda e all'artigianato con sfilate aperitivi e intrattenimento in centro storico e nella prima periferia le date da segnare in calendario sono sabato 23 e domenica 24 giugno i sotterranei delle mura le sale dell'ex cavalerizza e altri spazi della città faranno da scenografia agli eventi della manifestazione suddivisa in due contenitori Lucca Fashion Weekend e Lucca Fashion Weekend Off il primo riservato a otto brand del settore il secondo volto a coinvolgere anche le attività del territorio e i cittadini Lucca Fashion Weekend sarà un evento dove avrà come protagonisti i sotterranei delle mura San Regolo San Martino San Colombano e Santa Maria dove sfileranno i brand con nazionali con addetti di settore e stampa specialistica poi ci sarà tutta la parte off dove sono state chiamate le attività commerciali del centro e della periferia ci saranno tre mostre molto importanti legate al mondo della moda in location veramente esclusive e inedite l'iniziativa nata su impulso dell'amministrazione comunale organizzata dalla Life Service Agency vuole rappresentare un'opportunità per rilanciare l'immagine della città come contesto adatto a rappresentare una piazza ricca di proposte commerciali di alta qualità inoltre intende valorizzare il patrimonio storico e culturale scenografia d'eccezione degli eventi in programma Virginia Torriani e Marco Pardini ci accompagnano alla scoperta delle bellezze della Toscana con la regia di Abramo Rossi Colori di Toscana un viaggio aperto l'etnobotanica la storia le tradizioni e l'attualità il palinzesto di prima serata di Noi TV si arricchisce di una nuova trasmissione a guidarci in questo viaggio sarà Marco Pardini in compagnia di Virginia Torriani che seppur su strade differenti vi racconteranno le più belle cittadine toscane paesi e persone viste in una prospettiva che parte da un punto del tutto speciale Pardini come sempre unirà infatti la botanica alla storia alle popolazioni per scoprire da dove veniamo e dove stiamo andando con la regia di Abramo Rossi il viaggio inizierà da Vico Pisano ma poi spazieremo dai borghi della Luniana alla Maremma dal Fiorentino al Senese immagini piante e cultura di luoghi e paesi che tutti ci invidiano zone come Populonia Volterra Montalcino e tante altre perle toscane con i loro colori e la loro storia una nuova trasmissione che nelle nostre intenzioni vuole essere anche un'opportunità di promozione delle bellezze dei territori toscani anche di quelli meno conosciuti colori di Toscana in onda ogni venerdì alle 21.15 con repliche il sabato alle 15 e la domenica alle 13 e siamo allo sport l'amministratore delegato della lucchese Reilo Faso ospite nell'ultima puntata di Curva Ovest ha parlato di ricapitalizzazioni stadio settore giovanile squadra femminile e programmi per il prossimo campionato di Serie C Giulio Del Fiorentino una puntata speciale con la prima uscita dell'amministratore delegato della lucchese Reilo Faso chiusura stagionale con il botto per Curva Ovest con tante tantissime domande al nuovo dirigente che non si è sottratto al fuoco di fila di Guido Casotti in studio come sempre anche Giulio Castagnoli mentre da casa sono arrivati un'infinità di messaggi il massimo dirigente della nuova proprietà targata Bulgarella ha dimostrato idee chiare lungimiranza ma anche lucidità e non ultima non guasta l'eleganza che contraddistingue chi del proprio lavoro fa anche un'ostilità diversi i concetti affrontati la necessità di un nuovo asset che preveda investimenti e strutture per il settore giovanile e femminile che oggi sono difficoltà immediata ricapitalizzazione necessità di una rosa che parla da quanto di buono si è visto nella stagione finita bisogna avere un progetto che duri nel tempo e ambire alle posizioni di vertice con continuità questa è la strategia che bisogna adottare da club ambizioso cioè non fare una puntata all in su una stagione ma costruire un progetto che duri nel tempo questa è la strategia poi il settore giovanile ci può aiutare a far emergere qualche giovane e a creare valore la prima squadra ci può aiutare a far emergere qualche giovane a creare valore e così si creano le precondizioni per crescere pur annunciando che ulteriori notizie arriveranno solo in conferenza stampa l'OFASO ha parlato di urgenza di incontrare a breve vecchi soci dirigenti e allenatore per definire anche il loro futuro alla luce del lavoro svolto finora dell'impegno profuso per la Calucchese e noi ci fermiamo qui è tutto per quanto riguarda l'edizione dedicata a Lucca Piana e Garfagnana adesso una breve pausa pubblicitaria poi come sempre la linea passa al telegiornale della Versilia tutti voi grazie per averci seguito fin qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti